Mi stendiamo alla prima giornata di campionato, Napoli-Cittadella, 50.000 spettatori, tu eri nel gruppo uno dei più esperti, si può dire, di quel Napoli, qualche calciatore ma era meno esperto, era un po' timoroso nel scendere in campo vedendo tutte quelle persone, le sensazioni dello spogliatore per il debutto, non era facile? E' bellissimo tornare a quella giornata, 50.000, secondo me ci stavano più di 70.000 persone in quello stadio, c'era una bolgia che ci travolgeva, era un'onda che ci ha portato, mi ricordo che noi stavamo vincendo 3-1 se non mi sbaglio, poi è chiaro che fisicamente eravamo a pezzi e non riuscivamo neanche a correre, è finita 3-3 se non mi sbaglio quella partita, ma quei tre gol ce l'hanno fatto fare i tifosi, io non mi ricordo neanche chi ha segnato, forse Toledo sì, il difensore Sabino anche, sì è vero, è ignofo, però secondo me quei gol li hanno fatti i tifosi, la onda, il durto, l'esplosione di quello stadio è una cosa che io invito a chiunque a potersi godere.